La battaglia di sindacati e cittadini a difesa dei nuclei di cure primarie non si ferma e da ieri è in corso un'occupazione pacifica della sede della direzione generale in via Saragat che prosegue sino a che non ci saranno risposte. Le polemiche divampano dopo le dichiarazioni della ASL 1 che non ha ricevuto nessuno e che sostiene che il subentro di nuovi medici dei nuclei a sostituzione dei medici in pensione sia illegittimo. La federazione dei medici di famiglia tramite il segretario Vito Albano fa sapere che non ci sta e punta il dito sulla ASL che sostiene che i nuclei non chiuderanno ma se viene ridotto il numero di medici diminuiranno anche i pazienti che usano il servizio e sarà negato a tanti cittadini e dunque si taglia un servizio si creano cittadini di serie A e serie B ma non è tutto perché Albano respinge al mittente la dichiarazione grave secondo loro secondo la quale la federazione sarebbe d'accordo con la posizione dell'azienda niente di più falso per i medici e alle dichiarazioni di Albano fanno ecco quelle dei giovani medici della federazione sulla faccenda dell'illegittimità si chiedono come mai questo riguardi solo l'ASL dell'Aquila non le altre ASL che lo hanno fatto medici che attendono da due anni il subentro l'ASL parla poi di indennità e privilegio riferendosi alla retribuzione per i medici in subentro indennità fanno notare invece i giovani medici che servono per coprire le spese di mantenimento dei nuclei per il personale che ci lavora non sono risorse aggiuntive agli stipendi insomma la notte è passata all'interno dei locali delle direzioni ma la battaglia non si arresta assolutamente noi rimaniamo qui insieme ai sindacati dei medici non abbiamo intenzione di di darci per vinti fin tanto che l'ASL non non ci risponderà con degli atti amministrativi rispetto a quello che che noi chiediamo rispetto alle risposte che noi chiediamo è una problematica che ha visto anche molti cittadini stare con voi sì ieri era presente una una grossa fetta diciamo di rappresentanza della cittadinanza cittadini di di ogni età tra l'altro proprio perché è una è una faccenda che riguarda che ci riguarda tutti grazie